salve a tutti allora praticamente volevo spiegarvi come smontare la puleggia dell'alternatore della macchina senza l'ausilio del kit ok esiste un kit dove si vende una chiave torx con una specie di dado che va inserita nella parte più larga la chiave torx mantiene ferma la parte centrale e con il dado facciamo forza per allentare quindi svitare la puleggia dell'alternatore io che cosa ho fatto qui già una puleggia smontata che ho smontato proprio questa mattina praticamente ho preso un dado e l'ho saldato alla parte centrale con alcuni punti di saldatura come vedete ok questo stava ancora montato io adesso lo smontato ve lo sto facendo vedere praticamente che cosa ho fatto ho saldato questo dado che mi aggancia alla parte centrale ho inserito la chiave torx al centro così e con una chiave sono riuscito con una mantengo la chiave torx centrale in maniera tale che non ruota e con l'altra svido il dado svido il dato in maniera tale che sbloccando la puleggia poi la posso roteare e tirare fuori quindi invece del kit praticamente ho pensato di saldare questo dado la parte centrale e vado a sostituire quello che mi avrebbe fatto il kit adatto e praticamente l'ho fatto tutto da me manualmente grazie per l'attenzione e alla prossima